Una nuova matricola si avvicina a Piazza Affari. La IS Safebag è specializzata nell'imballaggio e protezione del bagaglio sui voli aerei. Fondata nel 1997, la società di Gallarate ha registrato l'anno scorso un fatturato di 12 milioni di euro. È presente in 22 aeroporti italiani ed europei e ha fatto rotta anche oltreoceano allo scalo di Miami. E ora si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Vogliamo quotarci all'IM Italia, riteniamo che sia un mercato molto interessante per le piccole aziende come la nostra e l'ambizione è quella di poter incamerare risorse per poter sviluppare ulteriormente la nostra azienda all'estero. Evidentemente c'è un time to market molto importante per questo prodotto che noi vendiamo e vogliamo cogliere questa opportunità che il mercato ci dà.